buon pomeriggio e benvenuti al nostro virtual clubhouse oggi abbiamo un ospite in presenza ma a distanza poi lo presenterò sapete che questi spazi sono una mezz'ora 40 minuti dedicati ai temi del lavoro ma magari da una prospettiva un po diversa oggi per esempio abbiamo deciso di parlare di sicurezza del lavoro di cui tutti ahimè dobbiamo essere esperti soprattutto se ne sente parlare quando si verificano gravi infortuni però abbiamo deciso di prendere lo spunto da un sistema di gestione della sicurezza che come avremo modo di capire parte da una prospettiva un po diversa cioè mette al centro la mansione del lavoratore il lavoratore piuttosto che gli adempimenti che ovviamente normativamente bisogna sempre assicurare oggi per parlarne con noi abbiamo pierluigi aluisio grazie di essere venuto che è il presidente di veniscom e vi dicevo lui è qui in presenza con noi e collegato abbiamo poi invece il piacere di avere luca scalabrine che è il presidente di ac tv è un'azienda che probabilmente i più collegati conoscono e si occupa di trasporti sia su terra ferma che per acqua nella città di venezia e dintorni e ci parlerà un po della sua esperienza concreta dell'utilizzo di questi sistemi e in generale della delle criticità diciamo connesse alla gestione della sicurezza e come la tecnologia può aiutare a forse non eliminare ma ridurre i rischi che ogni giorno purtroppo i lavoratori corrono svolgendo la propria attività lavorativa partiamo allora buongiorno e grazie e partiamo allora da pierluigi dicevo veniscom se vuoi dire due parole sulla società così veniscom è una piccola multinazionale del software dei servizi informatici nata a venezia ma con un joint venture in mezzo mondo intendiamo asia africa asia centrale emirati europa occidentale bene quindi una società software che a un certo punto poi ci spiegherai anche perché da dove nasce l'idea decide di implementare questo sistema che ha un nome molto evocativo perché si chiama calmo calmo con la capa esatto calmo con la capa e che cosa lo contraddistingue ma prima ancora perché l'idea di creare un software ad hoc e qual è il meccanismo di funzionamento in modo semplice ovviamente come spesso succede le storie di successo nascono per caso da una combinazione di fattori che sono l'internazionalizzazione di veniscom e la presenza di un cliente demanding uno di quelli che chiedono tantissimo e questo cliente eni eni all'estero soprattutto ma anche in italia è una delle aziende al mondo che a nostro avviso investe spende e rischia di più sulla sicurezza del lavoro non può permettersi assolutamente incidenti che comporterebbero blocchi di impianti o cambi delle condizioni contrattuali per decine di migliaia di persone quindi decine di milioni di euro di costo per un incidente sul lavoro e quindi deve assolutamente monitorare e eni ma come tantissime altre aziende ha sicuramente tanti sistemi per monitorare dispositivi di protezione individuale la formazione l'addestramento le visite mediche ognuno fornito da un fornitore diverso e sentiva però di non averne il completo controllo e nel caso di incidenti la prima cosa che saltano sono i registri che siano cartacei che siano informatici e quindi la nostra esperienza internazionale abbiamo avuto la fortuna di vedere che cosa può succedere in caso di uno scoppio di un giacimento petrolifero e quindi la necessità di poter dimostrare che l'azienda e i manager dell'azienda hanno fatto tutto il possibile e che questo sia tracciato inequivocabilmente quindi ecco che eni ci ha chiesto di sviluppare un software che partisse dalla mansione del lavoratore e che potesse metterli in calma e in sicurezza questo calmo con la cap è nato in kazakhistan perché era comprensibile anche per i kazaki kazakhistan noi abbiamo sviluppato il più grande progetto del mondo un giacimento da 115 miliardi di dollari dove abbiamo sviluppato tutto il software la nostra piccola venis con kazakhistan e questo calmo doveva mettere in sicurezza tutti centrato sulla mansione del lavoratore per quella mansione spostando o eventualmente spostando la mansione tutti gli addempimenti si andavano ad adeguare e era possibile tracciarli e dimostrarli cioè la tracciabilità e dimostrabilità in favore dell'azienda in caso di incidente questo era l'obiettivo e quindi abbiamo come dici tu cambiato la logica dagli addempimenti alla mansione tutela del lavoratore ma soprattutto tutela dell'azienda e del manager sì perché sappiamo che nel sistema italiano ma in generale quando si parla di tutela della sicurezza sul lavoro è necessario poter dimostrare quello che si fa e quindi chiaramente avere un sistema unico che consente di tenere le fila dei vari addempimenti e che va a vedere che cosa fa la persona e quindi conseguentemente quali sono le altre gli addempimenti le cose da fare effettivamente semplifica la gestione ma anche poi successivamente l'eventuale prova addirittura ci sono stati dei casi in cui alle autorità ispettive sul lavoro più esigenti che non sono con l'italiano c'è di peggio c'è di peggio anche se lo spisa che è venuto a farci visita durante il covid nel farci tanti complimenti si è anche portato via un sacco di nostra documentazione come si ha detto eccezionale ma insomma ci sono stati dei casi soprattutto all'estero dove l'azienda addirittura ha deciso la compagnia petrolifera addirittura ha deciso di dare all'organismo ispettivo l'accesso alla piattaforma per evitarsi le visite ispettive io ti do un accesso e tu verifichi che effettivamente i lavoratori vengono bloccati se non hanno i dispositivi di protezione a posto la formazione le visite mediche licenze patenti e addirittura la prevenzione covid questa è una cosa che abbiamo portato in Italia ma è uno standard nel settore petrolifero cioè non fai partire una squadra dall'Italia non fai uscire il lavoratore da casa se prima non l'hai misurato perché non porti un'influenza anche solo stagionale non dico il covid ma in una piattaforma petrolifera o in un pozzo nel deserto perché altrimenti il contagio continuerà e quindi abbiamo cercato di portare di ritorno in Italia anche delle soluzioni anti covid di monitoraggio della salute dei lavoratori prima che escono da casa perché se ci pensiamo bene è assolutamente illogico prendere la temperatura al lavoratore quando è già in azienda e ha già fatto il viaggio sul mezzo pubblico non è questo il modo quindi mi pare di capire comunque un sistema che nasce in qualche modo all'estero o comunque è stato pensato all'estero e che poi fa il viaggio al contrario per ritornare in Italia quindi un'azienda italiana ma con la sua consociata estera e quindi oggi in Italia abbiamo abbastanza appunto come mi spiegavi anche casi tra virgolette simpatici perché quello che emerge anche dall'utilizzo di questo sistema è che essendo correggimi ovviamente se sbaglio un sistema comunque informatizzato che consente di tracciare tutto consente anche di individuare le eventuali falle la cui denuncia potrebbe normalmente essere rimessa al singolo dipendente che però non vuole essere il delatore di turno e quindi sta zitto e fa finta di niente questo ne abbiamo avuto esempi purtroppo gravissimi anche di recente quindi ci vuoi raccontare qualche episodio che ti è rimasto particolarmente impresso? Sì ci sono vari aneddoti racconto quello che posso raccontare fondamentalmente nessun dipendente denuncerà mai un altro dipendente per esempio per la sottrazione di dispositivi di protezione individuale che costano moltissimo dai caschetti antinfortunistica che non si capiva perché in Iraq Eni Iraq perché poi appunto questo calma è diventato il software standard di sicurezza sul lavoro di Eni e di altre compagnie petrolifere ma Eni Iraq aveva un problema di caschetti che sparivano vai a capire grazie al software il software segnala a prima al responsabile di sicurezza e poi addirittura alle HR che è la squadra dei locali che consuma più caschetti degli espatriati italiani perché? Vai a scoprire che tristemente i figli dei lavoratori iracheni si portano via i caschetti per giocare alla guerra piuttosto che... come se non ce ne fosse abbastanza come se non ce ne fosse abbastanza uno dei più grandi acquedotti del mondo che sta nel nostro paese scopri che le scarpe antinfortunistica una volta vengono ritirate con una taglia 42 e una taglia 37 dallo stesso dipendente dallo stesso dipendente a seconda della stagione a seconda che lui o la moglie abbia bisogno delle pedule piuttosto che guanti da lavoro morbidi, raffinati e protettivi si consumino per certe squadre che fanno dei turni dove magari puoi andare a raccogliere castagne puoi andare a raccogliere cozze puoi andare a raccogliere... si consumano prima di chi invece li usa solo per il lavoro piuttosto che già che a vento in Siberia con Gasprom avevo avuto questo problema che spariscono d'inverno perché la gente va a sciare e li scopri perché vengono ritirate diverse taglie diverse ma nessun dipendente magazziniere denuncerà il suo collega è il sistema che fa una verifica dei consumi anomali e già con questo si ripaga il sistema dei consumi anomali o anche della fornitura errata perché può anche essere che se tutte le squadre hanno un consumo anomalo è la fornitura che non era all'altezza e quindi è un problema di fornitura però al di là dei risparmi è la governance la cosa che veramente... si diciamo che le storie che ci hai raccontato impattano poi anche su tutto il mondo HR perché poi ci sono ovviamente responsabilità dei lavoratori che si intascano materiale non dovuto e quindi questo diciamo... e qualcuno ha deciso di chiuderlo l'applicazione di business intelligence che fa l'analisi dei consumi anomali diciamo che non è sempre adottata nelle aziende pubbliche italiane ok perché non è gradita però diciamo è un altro aspetto, un'altra faccia della stessa medaglia per cui la sicurezza e poi torno al punto che stavi richiamando tu la sicurezza sul lavoro è fondamentale e ovviamente per tutto quello che ne consegue per le possibili conseguenze oltre alle conseguenze psicofisiche sul lavoratore ma anche le conseguenze economiche per l'azienda ma l'altro aspetto è capire che attraverso questo sistema si possono intercettare diciamo anche dei comportamenti non proprio ortodossi da parte dei lavoratori però tu dicevi alla fine questi sono aneddoti tra virgolette simpatici quello che importa è il controllo della governance del sistema di sicurezza io credo che in un sistema come quello italiano in cui comunque c'è una responsabilità che spesso sale sino ai vertici penso soprattutto la responsabilità penale quindi in prima battuta vengono un po' coinvolti tutti di oggi la storia del sindaco di non so che comune che viene indagata perché un bambino dell'asilo si è schiacciato al dito sulla porta perché l'asilo è comunale quindi diciamo il rappresentante legale è il sindaco ma al di là di queste tra virgolette aberrazioni è vero che nella più parte dei casi si risale la catena e quindi il sistema di deleghe talvolta non tiene quindi poter dimostrare che chi ai vertici ha fatto come dicevi tu tutto quanto era in suo potere per assicurare la sicurezza e governare il processo perché è chiaro che l'amministratore delegato non può sapere se Elisa ha il guanto a norma o è consunto però ha messo in piedi un sistema che può essere calmo ma insomma comunque questo è uno dei sistemi per assicurarsi che il guanto consunto non sia di questo mondo diciamo è che il lavoratore che non ha adempiuto la sostituzione del dispositivo di protezione individuale l'aggiornamento della formazione non è andato alla lista america ha saltato uno degli adempimenti venga bloccato e poter dimostrare che viene bloccato e queste informazioni però non devono stare nella testa di un RSPP che sia di una grande compagnia petrolifera o di una medio grande utility italiana perché questo poi il mercato in Italia quando abbiamo portato in Italia sono le medie grandi utility che hanno questo tipo di attenzione non può stare nella testa di un RSPP perché potrebbe morire anche lui in un incidente sparire o avere dei vuoti di memoria cambiare lavoro o andare in pensione andare in pensione è il caso di ACTV ce ne parlerà il presidente Lucas Calabrin che è un nostro grande appassionato cliente e amico che ha fatto crescere molto la soluzione in ACTV lo spazio per inserire un sistema che passi dalla testa dei dipendenti alla knowledge base alla banca date dell'azienda la governance della sicurezza il momento giusto è quando va in pensione responsabile allora lì ti rendi conto che stai perdendo tutto e devi trasferire dalla testa dei dipendenti a un sistema informatico gli addempimenti, la governance, la storicità le scadenze, i fornitori e tutto l'ecosistema di sicurezza e allora visto che l'abbiamo chiamato in causa proviamo a capire dal presidente Scalabrin un po' ACTV se ci vuole dire due parole sull'azienda io veramente sono stata molto stringata così chi ci ascolta ha diciamo una panoramica un po' più corretta sì sicuramente nell'area veneziana siamo ben conosciuti e spero poi magari visto che io faccio anche il mestiere di consulente del lavoro e si sta parlando in questo caso di sicurezza sul lavoro ma in un futuro potremo parlare anche di altre cose di riuscire a trovarci che in presenza perché qua ci sveglieremo tutti con gli occhiali e con le orecchie a sventola continuando con le mascherine e l'attività purtroppo non in presenza tornando a ACTV la ACTV è nell'area veneziana già dal 1904 prima c'era una società francese di solito sono i francesi che comprono le cose in Italia all'epoca siamo noi che abbiamo comprato e spodestato i francesi per gestire l'attività prima si chiamava ACNIL poi si è passati ad ACTV azienda di consorzio trasporti veneziana anche perché ACTV fa parte di un gruppo più grande che si chiama AVM AVM è la capogruppo è gestita al 100% dal comune di Venezia la cosa importante è che noi movimentiamo parecchie attività perché oltre attività diciamo acqua oltre attività su gomma abbiamo anche l'attività su tram pensate che sviluppiamo oltre al giornalmente oltre 5100 corse per quanto riguarda gli autobus e oltre 1500 corse per quanto riguarda i battelli con monta, smonta tutta una serie di attività particolari pertanto avendo all'interno dell'azienda oltre 3200 lavoratori capite che le complessità sono tante e sono tante le attività da gestire prima si parlava di quel sindaco che ha avuto dei problemi solamente perché un bambino si è schiacciato un dito effettivamente è proprio così il risk analysis diventa fondamentale in un'azienda come la nostra e il monitoraggio di ogni passaggio è ancora più importante l'esperienza con Veniscom Veniscom che ha proposto all'azienda questo programma questa piattaforma questo skill planner per gestire una serie di attività non è facile lavorare con la nostra azienda abbiamo inizialmente avuto delle piccole difficoltà ma la voglia la volontà di crescere insieme su attività e quindi portare le nostre problematiche e vedere come svilupparle è stata di importanza fondamentale abbiamo trovato in Veniscom un partner interessante in questa cosa perché voglio tutti capire che le mansioni le attività la gestione di DPI come si parlava prima e tutto quanto serve non solo la sicurezza sul lavoro ma proprio la gestione generale diventa complesso se io faccio un'attività su una mansione e poi questa viene variata nel tempo io devo sapere esattamente in quell'istante se quella persona ha fatto tutti i corsi formativi se li ha sviluppati con correttezza se ha preso tutti i DPI se è stata stampata la documentazione relativa ai diplomi poi di aggiornamento i corsi di aggiornamento veramente in un'azienda che gestisce unica in Italia tram acqua e gomma diventa veramente complicata la gestione e avere qualcosa che ci dia una mano in tal senso è stata una scoperta importante perché una volta si facevano dei bei prospetti eccelli e si portava avanti adesso è tutto informatizzato è tutto gestito con un controllo non indifferente basta pensare all'obbligo delle visite mediche gli scadenziari veramente un'attività molto utile per l'azienda che va continuamente implementata perché le norme cambiano la gestione cambia l'attività cambia e avete visto per chi è nell'area veneziana anche tutte le problematiche con i nostri lavoratori in questa fase storica dove addirittura alcune persone hanno avuto delle consultazioni con la clientela per vari motivi la sicurezza in azienda diventa di natura fondamentale l'analisi del rischio diventa fondamentale e quindi sapere esattamente che ogni nostro lavoratore è protetto e nella maniera corretta e ha adempiuto tutti gli adempimenti di legge questo sicuramente ci favorisce e ci aiuta poi nella gestione dell'attività quindi prendo diciamo alcuni degli aspetti che mi hanno colpito di più un'attività molto diversificata e anche molto complessa da gestire perché come ha detto lei tram gomma e acqua non è una società di trasporti tra virgolette qualunque ma una società che quindi si trova a gestire attività diverse complessità quindi nella gestione dell'attività e anche nella gestione delle singole mansioni poi del dipendente che magari viene spostato e ha la necessità di mappare esattamente cosa ha fatto cosa sa fare e cosa può fare da un punto di vista normativo diceva però prima Pierluigi che voi avete avuto questa esigenza di dare un po' di ordine io direi così soprattutto quando c'è stato diciamo o in corso di ricambio generazionale perché immagino che storicamente ci fossero delle persone che erano dei database mi passi il termine umani e che quindi erano in grado immediatamente di mappare quel dipendente quella mansione poi ovviamente una volta che queste persone escono si pone il problema di come gestire anche perché nel frattempo fortunatamente la tecnologia diciamo è migliorata e quindi ci sono gli strumenti che consentono di migliorare l'attività quindi la domanda è quali erano le problematiche principali un po' lei le ha dette in tema di sicurezza quindi le casistiche o comunque le questioni veramente più difficili per voi da affrontare che appunto vi mettono o vi mettevano spero più in ansia e in difficoltà le cose sono molteplici e come ha detto lei diciamo la memoria delle volte specialmente con il passare degli anni si perde e quindi non si può basare in un'azienda moderna un'attività su una memoria pongo un esempio delle nostre difficoltà se io pongo un'analisi dei rischi un'attività attraverso un semaforo e pongo delle criticità nel semaforo rosso se poi succedono esattamente quelle criticità io posso avere dei problemi come dice non hai tenuto conto perfettamente all'interno del semaforo rosso che quelle attività dovranno essere monitorate maggiormente ma se io vado nel verde e mi succede magari un'attività negativa nell'area verde ugualmente qualche persona potrebbe dirmi eh no avete monitorato male perché quel fatto era rosso e non era verde quindi da qualsiasi da qualsiasi posto che ci si muova come quando una persona e gli imprenditori italiani lo sanno è veramente difficile gestire la correttezza di tutte le operazioni in un'azienda perché qualsiasi cosa si fa si rischia sempre da una lato o dall'altro di avere delle problematiche proprio per questo ci serviva assolutamente una piattaforma tra l'altro a moduli perché so che attualmente anche Veniscom sta lavorando su una piattaforma digitale anche per il monitoraggio della salute con il covid con tutto un sistema particolare che può essere molto interessante anche nelle aziende dove il lavoratore prima ancora di entrare in azienda ha tutta una serie di attività da poter svolgere che non è solo mero attività di misurazione della temperatura ma addirittura può misurare l'ossigenazione del sangue il battito cardiaco e tante attività e fare poi delle analisi preventive quindi un programma che è in un divenire è iniziato guardando principalmente alla sicurezza e dopo si sta amplificando su ulteriori attività anche secondo il mercato prima il covid non c'era adesso c'è speriamo visti un po' i dati che ogni giorno arrivano che sia in una fase calante e che quindi potremo anche rallentare l'azione ma rallentare non vuol dire fermarla dobbiamo sempre prestare attenzione a tutto e pertanto le problematiche che sorgevano lungo l'implementazione del programma sono state via via gestite risolte assieme ai tecnici di Veniscom per far sì che il programma si adattasse alle esigenze aziendali che diventa fondamentale perché ogni azienda ogni impresa è un'entità a sé non è che io posso far sì che lo stesso tipo di piattaforma possa essere utilizzata in Kazakistan come parlava prima il presidente o a Venezia Venezia ha un suo sistema di lavoro una sua attività con un'azienda che è unica al mondo e pertanto bisogna implementare un programma non solo in base alla parte diciamo tecnologica ma proprio calarla nella realtà nei passaggi nella facilità di utilizzo perché poi l'attività non deve essere solo gestita dall'HR o dal suo staff ma può essere monitorata e gestita all'interno dell'azienda anche da altre persone con competenze specifiche in materia dando un aiuto importante anche da esagero da un magazziniere per far la verifica dei DPI se ci sono tutti se c'è da fare un rinnovo se fare un acquisto se sono logori se sono scaduti se hanno da fare una serie di attività quindi un'attività incentrata su una movimentazione globale all'interno dell'azienda scusa perché prima mentre parlava ma noi abbiamo il microfono spento scusami per dire una cosa volevo dire che e l'avete capito ACTV è una stella brillante nel cielo delle utilities italiane per l'attenzione che ha il presidente Scalabrin e tutto il suo management alla sicurezza dei lavoratori ma anche degli utenti trasportati però dobbiamo anche raccontare una chicca Luca che ovviamente non può raccontare Luca ma la racconto io il fatto che le informazioni sono potere in ogni organizzazione in ogni azienda e quindi le difficoltà iniziali che però non abbiamo paura a affrontare abbiamo affrontato africani asiatici russi arabi kazaki e siamo riusciti a fargli tirare fuori le informazioni ma soprattutto siamo riusciti in ACTV a tirare fuori dai veneziani il loro sapere perché sulla sicurezza nessuno è entusiasta di passare proprio sapere il proprio potere a un sistema all'azienda e quindi a non rendersi più indispensabile però questo è lo scenario è qui che devono andare le aziende se vogliono essere veramente tutelate quindi la fatica iniziale su cui abbiamo lavorato insieme e ci riconosciamo che ci viene bene è quella di customizzare personalizzare la soluzione sulla specificità perché ogni cliente è diverso e di riuscire a lavorare con il personale del cliente con le buone con le buone con le buone con le buone con le gattive per far tirare fuori le informazioni perché la piattaforma va configurata ovviamente ad hoc anche se nessuno è collaborativo nessuno ha voglia di cedere il proprio sapere all'azienda però credo che questo sia sempre più indispensabile sia perché poi noi prima abbiamo parlato di necessità di poter dimostrare quello che si fa di avvenimenti però è chiaro che uno quando pensa alla sicurezza non deve o non dovrebbe solo pensare a farlo per evitare conseguenze negative del tipo conseguenze sanzionatorie pecuniarie personali dovrebbe farlo per evitare conseguenze negative per i lavoratori e quindi il sistema di diciamo certificazione di quello che si fa è sicuramente utile per il post ma mi pare di capire che comunque è un sistema di fatto di monitoraggio che consente veramente di intervenire e eventualmente anche diciamo trovare le falle in tempo reale è dotato anche di un sistema di intelligenza artificiale che autoapprende perché ovviamente le organizzazioni sono dinamiche e in questo momento anche permeabili sono tanti consulenti esterni che collaborano sulla piattaforma e i consulenti rimangono noi non andiamo a sostituire i consulenti andiamo però a creare una mente pensante che si autoaggiorna all'interno dell'azienda questo calmo deve far dormire sonni tranquilli a tutti calmi come dicono i kazaki ok calmi tutti i lavoratori l'azienda i manager i medici competenti i formatori i certificatori è un sistema di gestione delle informazioni con degli scadenziari dinamici dei sistemi di autoapprendimento anche dagli errori con sistemi previsionali dell'incidentalità comunque sul tema della non indispensabilità e quindi della difficoltà di condividere le informazioni ti vago un secondo perché è notorio che si stanno studiando sistemi per sostituire gli avvocati quindi questo tema della tecnologia che spesso viene avversato in verità dobbiamo capire che è un sistema in verità che deve andare al passo con le persone perché le persone ovviamente poi ci devono essere perché poi il sistema mi dice che devo cambiare i guanti ma se poi l'azienda non li acquista i guanti o non li fornisce o le persone non li mettono quello è un problema di persona e comunque quindi l'alimento umano resta fondamentale però sicuramente la tecnologia oggi ci dà un vantaggio che anche solo dico io 15-20 anni fa non c'era ecco su questo adesso lascio la parola a Scalabrine puoi ripetere un secondo? Sì sì io sto dicendo che sono completamente d'accordo con lei su questo punto nel senso che è importante la tracciabilità ma noi dobbiamo lavorare sul cambiamento delle abitudini delle persone sull'usi costume e consuetudini dobbiamo farsi di immettere all'interno delle persone un modo diverso di lavorare perché è vero che è importante gestire le difficoltà poi del manager per quanto riguarda la possibilità in caso di problemi ma è ancora più importante far sì che alla base non sorgano i problemi che vengano fatte delle attività a favore dei lavoratori dove i lavoratori si sentono parte di un sistema di un programma che non viene calato all'alto ma che viene gestito insieme nei passaggi di consegne è fondamentale che ogni persona possa capire il ruolo che ha nell'azienda e capire che cosa può fare in più per l'azienda e cosa fare in più per i suoi colleghi per migliorare e sistemare il sistema di sicurezza è chiaro che noi non possiamo fare tutto per la sicurezza perché qualche elemento aleatorio può sempre succedere e facciamo fatica a gestire tutto ma se lavoriamo in sintonia con i lavoratori quindi un processo che parte dalla base e sale e non invece di incontrare dal vertice scende riusciamo veramente a fare un'opera importante questa piattaforma può aiutare anche in questo perché è fruibile non solo diciamo da persone particolari ma gestendola in una certa maniera può essere fruita anche da personale che può utilizzarla per migliorare sia la sua mansione la sua qualità la sua struttura ma migliorare proprio il rapporto con i colleghi per impostare un percorso virtuoso in tal senso e spero che possa essere estrapolata questa attività anche alle piccole e medie aziende molto più piccole di noi nel senso che in Veneto lavoriamo con micro e piccolissime aziende che però su questa attività hanno dei grossi buchi quindi potrei così dare un'opinione di poter riuscire a andare anche a dialogare con queste aziende che hanno problematiche sicuramente diverse ma che esistono e che forse vanno aiutate anche queste a trasformarsi a evolversi e a diventare più tecnologiche ho un'ultima domanda per il presidente Scalabrin che è questa lei ne ha accennato l'importanza del coinvolgimento dei dipendenti quindi la mia curiosità è questa che consapevolezza c'è non nei vertici di ACTV ma nei dipendenti di ACTV dell'attenzione che la società dedica alla sicurezza cioè avete anche fatto una campagna di sensibilizzazione su questo di informazione per capire anche l'investimento insomma l'attenzione che c'è su questo e questo vi dà un ritorno anche a livello diciamo di percezione da parte dei lavoratori ecco noi lavoriamo sia con i lavoratori che con l'utenza quindi dobbiamo mettere insieme le due caratteristiche e le due realtà più che campagne di sensibilizzazione tipo spot pubblicitari la formazione è il fatto e la gestione fondamentale noi dobbiamo assolutamente qualcuno dice sprecare invece io dico proprio gestire al meglio e utilizzare la formazione per dare far sì che i lavoratori comprendano dei meccanismi perché è inutile io posso fare tutto quello che voglio ma se il lavoratore non entra e non comprende il messaggio l'attività da poter svolgere io lancio solamente un sasso nell'acqua fa dei cerchi ma poi i cerchi si chiudono e seppur larghi poi si perdono noi dobbiamo formare i lavoratori perché abbiano la consapevolezza di impostare insieme all'azienda un percorso non è facile perché ripeto specialmente per le persone più anziane o abituate in una certa maniera cambiare la metodologia di lavoro è complesso e non sempre semplice però se viene spiegato lentamente con tranquillità con serenità dimostrando che si può migliorare e questo serve a loro anche per guadagnare del tempo e per qualificarsi in maniera più attiva anche a livello di mansioni quindi poter crescere penso che sia un progetto e un processo a poter attuare insieme va bene io la ringrazio grazie a voi ha avuto il contributo adesso l'ultima battuta per Luigi qual è l'ultima cosa che ci vuoi diciamo regalare come tua esperienza o come messaggio che vuoi lasciare una chicca finale come vuoi ti lascio libertà i russi di Lukoil ci stanno chiedendo di lavorare con loro non lavorare più con Eni questo sistema questo calmo diventi il loro sistema perché perché tra compagnie petrolifere non succederà tra aziende di trasporto anzi stiamo facendo una convenzione con tutte le aziende di trasporto con Astra per calmo soprattutto sulla sicurezza dei lavoratori per il covid ma compagnie petrolifere il software di gestione della sicurezza crea vantaggio competitivo perché riduce i costi di lavoro l'incidentalità e quindi Lukoil in una sorta di competizione tra aziende dice prendi calmo e portalo via sono stati la settimana scorsa qui da noi i russi hanno notato che il colore è giallo e nero calmo e la corolla della camomilla hanno chiesto di farlo bianco e rosso che sono i due colori di Lukoil per dire che la sicurezza nel settore petrolifero ma potrebbe essere ma non solo non solo crea vantaggio competitivo e come fanno le compagnie petrolifere se tu lavori per me con questo sistema questo software per darmi vantaggio competitivo non puoi più lavorare per la concorrenza per noi una scelta difficile nel senso che siamo cresciuti con Eni e dovremmo cambiare i colori del logo questo è quello che ci dà più fastidio però una grande soddisfazione è il riconoscimento che la sicurezza fa la differenza anche nella competizione economica e questo è il messaggio che io voglio mandare sia alle aziende molto sensibili come a CTV guidata di Luca Scalabri ma anche a quelle che lo diventeranno va bene Presidente mi raccomando il bianco e il rosso anche il verde che rimanga perché altrimenti andiamo fuori siamo orgogliosi di essere portiamo avanti la nostra bandiera lascia stare la bandiera russa lavoraci ma voglio la bandiera bianca, rossa e verde ti prego e poi tu sei una persona brava e quindi sono convinto che riesci a portare la maestria la voglia la volontà di essere italiani nel mondo che ci ha contraddistinto nel tempo e che stiamo purtroppo perdendo invece sarebbe importante continuare a essere veramente le persone che fanno eccellenza nel mondo diventa fondamentale va bene io ringrazio entrambi i miei ospiti direi che mi porta a casa tre cose fondamentali spero che per voi sia stato interessante uno che è l'ultima cosa che ha detto il Presidente Scalabrincia che l'eccellenza italiana comunque ha un senso qui il sistema l'esempio è quello di calmo ma ce ne sono tantissimi che parte dall'estero e poi trova diciamo terreno fertile in Italia ma sviluppato di fatto da una società italiana due l'importanza della formazione del coinvolgimento delle persone su questo sono pienamente d'accordo tu puoi fare tutto quello che vuoi ma se le persone non capiscono l'importanza di quello che stai facendo anche in termini economici di investimento non ne comprenderanno senso e quindi non lo faranno o non lo faranno volentieri lo faranno cinque volte su dieci e nelle cinque volte in cui non lo faranno magari si verifica l'incidente e tre quello che un po' diceva Pierluigi cioè quello che apparentemente può essere un costo che sia calmo che sia un altro sistema che sia comunque l'investimento anche di tempo che ci vuole per avere un corretto sistema di sicurezza alla fine si traduce in maggiore competitività perché davvero purtroppo come legali ci capita di seguire anche questioni relative agli infortuni sul lavoro al di là dei costi economici c'è poi anche uno strascico diciamo personale che non è indifferente perché chiaramente un infortunio sul lavoro ha degli impatti notevolissimi va bene io come sapete noi comunque non ci fermiamo mai quindi abbiamo già in programma il prossimo round table e quindi volevo ricordarvelo invitarvi ed è giovedì 17 giugno dalle 15 alle 16 e 30 qui in qualche modo si parla di patto generazionale quindi un patto generazionale per rilanciare l'impresa tutto il tema un po' delle persone che vanno in pensione come poi traghettare diciamo l'azienda per un futuro anche senza la memoria storica di chi ha lavorato per anni in quell'azienda saranno con noi Giuseppe Veniera amministratore delegato di Umana Giovanna Bellezza responsabile relazione industriale di team che è già stata nostra ospite all'evento di Roma e che sicuramente ci darà una visione molto interessante Sofia Lupi HR manager di Veronese Holding e Massimo Bottacin HR in un organization of development di Stiga che è un'azienda qui del territorio veneto io vi ringrazio spero sia stato interessante buon pomeriggio grazie a tutti arrivederci grazie e complimenti per l'iniziativa